M'hanno fatto andare verso Diamantova il braccetto, non mi ha minacciato, si prende a macchiaffetto, mi ha ammanettato il viso chinato, mi ha guardato, ho notato che era strappestato, si ha cagnato, se lo è passato, ammanettato, poi quando l'hanno accompagnato mi sarei saltato, e ho pensato dove sono stato, cosa mi è strattonato. Quel parco aveva mai notato che era recato all'interno del parco, in compagnia di un altro ragazzo? Glielo dato, che a me mi ha già fermato, è disochinato, ha guardato, ho anche i pali, ho piccino americano, ricorda da chi ha comprato, che cosa ha fatto? Are you dat to? Grazie a tutti.